Oggi vi parlo dell'unico sistema sul VIX che io abbia che lavora sia long che short e che quindi può essere usato per qualsiasi fase di mercato sia quando il mercato, gli indici funzionano, funzionano bene e salgono sia quando ci sono i mega crolli e il VIX parte va a 80, 60 eccetera è l'unico trading system di questo genere e oggi vi racconto come ho fatto la parte long come ho fatto la parte short e alla fine vi do degli importantissimi consigli per il trading live sul VIX Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video io sono Francesco Puzzi e sono un trader a tempo pieno da luglio del 2017 se vuoi tradare i miei sistemi 15 o 40 ogni mese con supporto 24 a 7 link in descrizione o buzzelite.com o numero verde 800 475 300 il sistema di cui parliamo oggi si chiama Sysorbix è un sistema abbastanza vecchio che gli studenti scrocchiarelli conoscono e conoscono bene e intanto vi faccio vedere brevemente le performance poi vi racconto come ho fatto la parte long e la parte short questo è il performance report con la parte long eccola qua questa è la parte short 1,62 di profit factor 353 di average trade e questo è molto importante 52% di trade vincenti e un drawdown abbastanza significativo soprattutto long e questa è l'equity line l'equity line dal 2004 e questo è l'andamento mese per mese ma come ho fatto a costruire questo trading system? beh la parte long per forza di cose deve fare pochi trade per forza perché se no la quantità di trade che sono falsi segnali è eccessiva e non si riesce a generare un buon ritorno quindi noi dobbiamo fare in modo che un sistema Sysorbix entri long solo quando è assolutamente necessario detto in altri termini il 2008, il 2018, il 2020 forse il 2022 quando crolla tanto il mercato questo chiaramente ci pone un bel dubbio fa pochi trade? come li validiamo pochi trade? è un problema quindi la parte long deve fare pochi trade ma deve essere molto semplice così che la validazione si salvi la parte short invece fa tanti trade può entrare anche molto infatti noi, cioè in questo trading system lavora molto di più short che long guarda, basta guardare i dati e qua la cosa che ci deve preoccupare di più è l'average trade in questo caso la parte short entra solo quando il VIX è sotto una certa soglia una soglia diciamo così di sicurezza e per fare questo mi baso sull'indice VIX se l'indice VIX è sotto una certa soglia allora posso entrare short che è un po' l'equivalente messo all'opposto di entrare long su SP500 entro long su SP500 quando i mercati sono tranquilli sicuramente non metto a entrare long durante un crollo che rischio di prendere degli stop loss e in effetti sta lavorando bene lavora spesso, entra spesso sta a mercato qualche giorno ma si porta a casa un average trade bello altino superiore a 300 dollari e fa sicuramente il suo punto numero 3 alcuni fondamentali consigli per il trading live punto numero 1 average trade alto nessun trading system sul VIX può essere tradato tranquillamente con un average trade basso il VIX è uno strumento fascinosissimo bellissimo ma molto complicato da tradare live quindi serve un average trade decente punto numero 1 punto numero 2 sul VIX è presente il micro VIX quindi un decimo del contratto normale è sufficientemente liquido si può lavorare ma si lavora sul micro VIX solo se si ha il primo punto un average trade decente punto numero 3 tradare live il VIX è abbastanza problematico quantomeno per le scadenze per i rolling il VIX rolla ogni mese se non vado errato il terzo venerdì del mese sempre e quindi bisogna starci un po' dietro tu devi sapere che una volta al mese ti devi mettere lì e fare il rolling e questo è quanto meno da valutare rispetto agli indici o alle valute le obbligazioni che rollano ogni tre mesi il VIX richiede un po' più di attenzione detto questo fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti vi leggo molto volentieri e se volete tradare i miei sistemi lo sapete già bazzelit.com numero vero da 80475300 e le varie informazioni in descrizione e vi auguro buona serata buoni giorni non so quando esce questo video quindi buon tutto perché ve lo meritate e noi ci vediamo con un nuovo video la prossima volta ciao ciao